Musica Eh purtroppo quella è vera Che è? È morto? No, è la sua ombra Ma è uno shadow Altro combattimento? Eh, è fin là Grazie Rize Ex-Adaci Ma quindi era un'entità dentro a Daci o che lo controllava già prima o è adesso che lo controlla? In teoria la seconda, un'entità che era presente in questo mondo che adesso controlla Daci L'inconscio collettivo L'inconscio collettivo Sappiamo però da Persona 5 che noi dissiperemo la nebbia Eh esatto Quindi tu ci hai dato la possibilità di avere le persone? Ah no, ci hai dato la possibilità di toccare il televisore Eh esatto Esatto, sì Ah no, non c'è Beh, sì Eh, esatto Ok, ok, così ha senso il fatto che apparissero le persone prima che venissero rapite Ora ha più senso il tutto Ci si poteva arrivare ma avevamo bisogno effettivamente di qualche indizio extra Giustamente tu finisci in tv, diventi famoso La gente pensa te in un modo o nell'altro Di conseguenza appari sul canale di mezzanotte Namatame vedeva quelle persone, le rapiva per salvarle Appunto salvarle E poi di conseguenza le infilava nel televisore E il tutto questo è dato da lui Da questo tizio qui Da Amenosagiri Quindi una persona qualsiasi avendo ipoteticamente toccato anche il televisore Non avrebbe ricevuto nessun potere Noi tutti Adachi compreso, Namatame compreso Che siamo gli eletti Abbiamo ricevuto il tutto perché siamo parte di un grande disegno Come al solito Eh esatto, esatto Combattimento e noi gli facciamo nulla Ah incredibile Ah ok Vedi questo è stato imprevisto Oh no Adachi Sta bruciando E sta assorbendo altre persone ovviamente Altre ombre Cosa ti avevo detto Rise Col cazzo che quello era l'ultimo combattimento È un occhio Sì, è un occhio Mi aspettavo almeno parlasse Dai Questo è lo Yalbatot di questo gioco In pratica Nemico finale Nemico finale Della parte originale del gioco Spero più che altro Spero più che altro che siamo curati Ok, no Non siamo curati Ma non è un problema Devo dire che non è proprio bello Però Allora Debilitazione Perfetto Potenziamo noi Ecco qua Perfetto Forse è stato un errore Come al solito Dovevo fare altro Dovevo concentrare prima lei Poi potenziare noi Aumentiamo L'illusione E carichiamo Kanji Persona sbagliata Che culo Comunque Dicevo Persona sbagliata Su cui usare Un attacco di vento Il mio caro Occhione Che tutto vede Tutto sa Tutto scemo Sei Altro che va Concentriamo Naoto E dopo La potenziamo Proviamo Iniziamo ad attaccare 302 E gli abbiamo tolto Un bel tocchettino Devo dire Tra l'altro Appena riusciamo Devo curare tutti Bel colpo di merda Ah ma non è neanche Pensavo fosse un attacco I stachilli O quello Ok Yoshitsune Tocca a te Assautobi Già metà vita Non è nulla Da dire Il mio caro Occhione Non che mi aspettassi Qualcosa Effettivamente Da te Detto questo Attacchiamo Di vento Devo curare Tutti Carichiamoci Di nuovo Oppure Li libereremo Soprattutto Dalle tue Scelte Nebbia Sconcertante Sto dicendo Cos'è successo Non capivo Attacco aumentato Benissimo Detto questo Di nuovo Trombettiere Continuiamo A debilitarlo Aumentiamo Il tempo Di debilitazione Ah Ah no In realtà È stata La nebbia Sai che ho fatto Una cagata Proviamo A Guardarci Tutti Eh Lo so Lo so È colpa Della nebbia Qua è colpa Mia Ok Kaguya Curiamo Tutti Quanti Ecco Fatto A posto Più che altro Scusami Eh Eh sì Andranno a vuoto E Fammi vedere Di sicuro Di sicuro Non funziona Neanche De Kaguya Ovviamente Guardiamoci Ok Si è Diradata Lo sapevo Che era un attacco Divino Mua Brava Tesoro Bravissima Tesoro Trombettioro Debilitazione Poi Concentrazione Kanji è ancora caricato A te Ti tolgo Tutti i bo Ah Non ci sono Ottimo Dicevo A te Allora Ti attacco Kanji È già Concentrato È già caricato Dai Spaccalo Madonna mia Kanji Che dolore Che tira Concentrazione Carica per tutti Gratis No Difesa Aumentata Aia Ancora Ma che palle Che sei Vabbè Di nuovo Allora Facciamo così Ci Carichiamo Tiriamo di nuovo Giù Io Shitsune Per forza Nauto Si tira su No Si Brava 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 Quindi Ci potenziamo Noi Allora No In realtà Siamo già potenziati Quindi Potenziamo lei Ecco Fatto Attacco Ristabilito Aumentiamo Le illusioni Di tutti Così Al prossimo Giro Aumentiamo La vita Tutti Con noi E tu Caricati Si Così Al prossimo Tiro Tiri tu Una slack A tutti Concentrazione Ovviamente Aumento Di difesa Ah no Precisione Attacco Niente A sto giro Forello Forse Mi Converrebbe Difendermi Però Mi serve Anche Curare Tutti Quindi Speriamo Non sia Un attacco Insta kill Più che altro Beh Abbiamo Tre ragazzi Che ci posso Difendere Da un colpo Quindi Volendo Non Volendo Possiamo Farcela Guardia 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 Eh lo so Lo so Ora ci attacca No Strano Che culo Allora Morirai Prima ancora Che tu possa Fare qualcosa Assautobi Addio Sprofondo Non ci ha detto Neanche punti Che schifo Scusa un attimo, ma non è la stessa cosa che ha detto anche Yalbatot? Cioè, Yalbatot, lui, sono la stessa entità o comunque varie facce della stessa entità? Perché anche Yalbatot è la creazione dei desideri dell'umanità. O forse più un concetto diverso che lui esiste, Yalbatot, per i desideri stessi dell'umanità e lui esiste perché è potenziato, perché ha necessità dei desideri dell'umanità. E' da capire qua. Ciao, chietto bello! Eccolo di nuovo, è tornato. Adachi-san, è stato il suo figlio di lui? No. Eh, esatto, penso che fosse più lui che l'altro. Che cosa? Quindi è finito? Inoltre, è bene. Gli spara in faccia, Yalbatot. No, no. Ti portiamo fuori e tu pagherai per le tue pene. Eccolo, ecco punto. Che poi effettivamente Dojima... Su Dojima, lui non ha detto assolutamente nulla. Perché avevo degli amici... Perché avevo degli amici puoi sempre ricominciare. Chi lo sa, Adachi? Adachi sorride debolmente. Senti che le sue parole sono sincere. Ti sembra di aver finalmente compreso Adachi. Oh. Livello 10? Ah no, livello 9 sul punto di morte, poi. L'affinità a livello 9, l'ossuria è migliorato. Finalmente tutti, amici, avete eliminato la causa di tutto. Eh, manca ancora un rango, eh, per tutti e due. Ancora qualcosa succede. Ehi, che succede qui? Ciao. Dojima c'è un ringraziamento di Dojima. Il ragazzo è il ragazzo di Yamano Mayumi, Konishi Saki. Sì, potrebbe essere così. Non c'è una scelta. Entendato. Il ragazzo è chiamato un'azienda, ma... Sì, potresti portare un'azienda? Un'azienda? Dojima c'è un'azienda. Oh, ancora ci tiene. Eh, esatto. Eh, adaci. Qualcuno ancora teneva a te. Sì, è un'azienda. Una luce nella nebbia. Duh. Non c'è più l'arriba tossica. Un altro Makoto, ma che palle. Tutti Makoto in sto cazzo di gioco, in sto cazzo di serie si chiamano. Eh, esatto. Cosa stai pensando? C'è troppo sole. Grazie a tutti. Cata. Sè no. Eh, non s'ca. Nani, nani? Poverina Eh esatto Poverina Ma dai ma siete tutti dei pezzi di merda Ma dai Ma porca troia Finalmente è finita Dite tutti Con l'aiuto di tutti siete riusciti a liberare la città della nebbia che la avvolgeva Va bene giudizio livello massimo Vediamo Tu sei me e io sono te Hai instaurato un legame autentico Quest'affinità sincera saranno i tuoi occhi per scorgere la verità Ti impartiamo la facoltà di creare Lucifero La forma definitiva dell'arcano giudizio Lucifero L Satana Beh dai Non c'è male Giudizio ha raggiunto il suo apice Starphilis ha creato un legame che non può essere compromesso Ora poi fonde Lucifero Re ribelle degli inferi Non male dai Ma dai Ecco Che ti pareva che si metteva a ridere questa Beh in teoria questo dovrebbe essere il finale canonico La battaglia è finalmente giunta alla sua conclusione Il responsabile di tutto è sparito e riconnesso alla nebbia che avvolgeva la città E così il tempo è passato Quanto tempo è passato Vuoi salvare i progressi? Certo Quanto tempo è passato